Musica Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale di Italy's What Team Che dirvi, come avete già letto dal titolo, cambio canale, cioè l'avevo già creato il canale YouTube E' un po' posticipato questo video, doveva uscire più o meno quando aprivo il canale Ma vabbè, non me ne sbatte un Kaiser Allora, ho creato il mio nuovo canale che si chiama XLennart Come potete anche vedere sui vostri schermi, se riuscite a vedere, perché questa è grafica di merda E' ho creato anche un nuovo PSND, come vedete, sullo schermo di merda E' ho anche tre notizie, tre aggiornamenti La prima, ho il primo aggiornamento Mi si è rotta la Play La lente si è bruciata Non mi legge più i dischi Fa un brutto tipo gni gni Eh, quindi niente Ho ordinato la lente nuova, quindi tra 5-6 giorni dovrebbe arrivare dall'Inghilterra Non l'ho ordinata dalla Cina, tipo costava 10 euro di meno Però, tipo mi arrivava a gennaio Quindi, sti cazzi Secondo aggiornamento Passeremo all'HD finalmente Cioè, mi comprerò la Vermedia Game Capture HD 2 Quindi niente più grafica di merda sui vostri schermi Terzo aggiornamento E' grazie a Donda di Merda Che, ovvero Trollino123 Che mi ha prestato il suo account Perché, se non mi prestavo il suo account Io questi giorni mi stavo a grattare i coglioni Cioè, mi ha prestato il suo account per scaricarmi un paio di giochi Tipo Crisis 3, Far Cry 3 Appunto, per non grattarmi i coglioni Ehm, altre cose da dirvi E' che Questo, questo canale YouTube Non chiuderà Non si chiude, non si chiude E' vietato chiudere Ehm, ma Lo otterrò come secondo canale Quindi per fancazzate Cazzate varie Ehm, quello XLennart sarà il mio canale principale Faccio questo video Per chi vorrebbe continuare a seguirmi Di Iscriversi al nuovo canale E di, appunto, cambiare E far parsi La, su quel canale ho già due Tre video Sono tre video Perché sono pochi E quindi Se volete continuare a seguire mi potete cambiare canale Non la televisione Se volete potete chiedermi nei commenti Di fare un video di questi giochi Tipo, pure GTA San Andreas Potrei fare un video fancazzismo totale E quindi Sì, posso anche fare un video su GTA San Andreas Almeno con la grafica di merda Perché avrò la grafica di merda Fino al Tipo A Natale Quindi Per quello Avrò una grafica di merda Che altro dirvi Tipo Nini Il link del nuovo canale Lo troverete nella descrizione E quindi Ho finito con questo video Per ora Questo canale Rimarrà aperto Per Tipo Vuole vedere I videos Quelli tipo Neutralizzato Che è quello che ha più di felicitazioni Però vi dico Che Per Romkiller No Ormai è finito Le ragioni romkiller Da Lenart È tutto Al prossimo video Sul nuovo canale Bella a tutti raga